Ciao a tutti ragazzi, sono SilverDX e in questo nuovo video sono tornato su Gran Turismo 2 di nuovo e questa volta incominciamo subito, se si muove a caricare, cominciamo subito con le patenti perchè le altre gare necessitano per forza della patente B, curriculum della classe della patente B per gareggiare, quindi farò, completerò la patente B, vediamo se riesco patente B, 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 oh è partito già, che palle, non mi dice niente questo, non mi avvisa questo è uno stronzo, oddio, qualcosa mi dice che, oddio, perchè fa questa laggata ogni tanto, ma perchè vedete questa laggata sicuramente perchè sto in download di un macello di cose, aperte così poi sicuramente mi chiamano su Skype, ma che, oh e basta la gare, ma quando sono arrivato ce l'ho fatto, nemmeno ce l'ho fatto, no ho preso solo l'argento senza che nemmeno me ne accorcesse e se fossi partito più velocemente forse avrei preso l'uno, forse, si nuovo record lo sappiamo vai sciogliti veloce, questa qua è la prova finale, oddio, è un carrello questa macchina è un carrello, è un carrello quest'auto guardate come gira, mamma mia no, 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 non uscire fuori, bravo, è uscito fuori ma non ha detto niente, zitti, zitti, non litite niente basta scivolare, dai che ce la facciamo cazzo, ci ho preso l'argento però prima esce euro, poi sempre che c'è l'argento così ti vuole piglia per culo, ok uh, la patente B, ottenuta, grande, grande, grande risultato passiamo, esci andiamo a fare qualche gara anche se vuol rincominciare anche la patente A voglio vedere, abbiamo fatto due prove già in meno di due minuti vabbè, la patente A la facciamo un'altra volta, andiamo direttamente a gara no, c'è la macchina di merda però coppa clubman vediamo questa qua, trazione A, vediamo bisogno della classe B la macchina mia è un po' troppo lenta forse, è un po' troppo lenta eh, facciamo Roma Sharkers questa volta ce la devo fare, non devo failare come sempre inizio gara dai, veloce, non mi fa perdere tempo muoviti ah, c'è pure la 500 Fiat Barchetta, Lotus Lan, Lotus Lan e Nissan Silvia, la mia ha già anche un MG ah, un mio carissimo utente medio di Youtube seguace del mio canale una 500 mi ha detto mi ha risposto perché io vi chiesi nel video scorso come mai i dettagli si abbassano dopo un po' quando si allontani beh, lui mi ha risposto mi ha dato la risposta più scontata e più ovvia che ci sia è normale, era la Playstation 1 il processore non ce la faceva caricare tutti i dettagli se li caricava mi ha detto che esplodiva tutto mi ha detto che si sarebbe surriscaldato oh mi sarebbe si sarebbe surriscaldato un macello e infatti ce l'avevo pensato pure io però siccome io sono un genio incompreso non lo dico non oh, ma perché mi fa ste laggate basta, non ce la faccio più ce la faccio più ce la faccio più uh ahia uh, guarda questo qua che macchina di merda tamponiamolo così vai no, questa laggate le sto odiando ora mi sto rompendo veramente i coglioni frena, gira perché è così veloce nel video scorso l'avevo modificata la macchina non mi ricordo comunque so solo che sto riuscendo nel mio intento questa gara forse se tutto va bene la vinco eh, quella 500 però è bella e figa gira e che mamma mia che macchina mi sa qualcosa mi dice che dobbiamo comprarne un'altra ma io so che in questo gioco dalle gare che ci hanno che necessitano della patente B in cui ogni gara puoi vincere un'auto sì, è così ogni gara per esempio quella che necessita no, quella è free queste qua sono quelle libere che non necessitano proprio di patente ma quelle che necessitano di patente ogni gara vince una macchina se non ricordo male ma vediamo le altre categorie vediamo così ci rendiamo conto allora finisco sta gara che sicuramente la vincerò me lo sento uh, qua dietro stanno cribbio, cribbio, cribbio no, 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 non mi superare modalità silver dx andiamo a tampone uh, frena frena no, non sbagliare non sbagliare non sbagliare ti prego non sbagliare non sbagliare questa dobbiamo vincere sì, la vinco la vinco sta gara la vinco giovinco mobile arrivo grande, grande ragazzi ce l'ho fatta ce l'ho fatta un bacione allora official timer seiko ok um, se di qua esci ok, bravo bravo bambino bravo piccino tempo su giro giro 1 non l'ho letto 5000 così a cazzo non nemmeno salvato continuo e rieccoci andiamo a modificare l'auto perché è una merda sì, dovevo fare una gara ho già deciso che gara fare ora la vedrete ah, qua stanno gli eventi sono pure per le gare no, speciale le gare veloce le gare monomarca coppa silvia ah ecco qua sì, potrei patente non richiesta potrei fare pure sta gara coppa silvia questa quelle modificate qua però modifica un po' vediamo se riesco a fare qualche voglio facciamo la coppa la coppa silvia elaborazione motori aspirati no, qua c'è bisogno di 11000 per passare alla fase 4 aumento c'è la cilindrata già fatto facciamo turbo questo non è perciò lo facciamo lo stupendo ah, infatti non posso metterlo non posso mettere il turbo intercooler ovviamente appunto ciò passiamo a sospensioni freni freni volivo manu... kit freni costo macello di soldi potrei fare questo potrei fare questo oddio mi sta venendo da star nutire ecco qua 11000 costa elaborazione motore l'abbiamo già vista prima che cazzo torno a frizione ah, triplo disco un kit di iscrizione che migliora la trasmissione è ideale per le vetture con motori molto spenti la mia lo è perciò installiamo e mettiamoci da parte i biggy money andiamo a fare l'evento vediamo speriamo che ce la posso fare evento clicca Silvia speriamo che non siano troppo veloci fanno fare figure di merda inizio gara partiamo subito ad accelerare sentite i tasti se riuscite cioè si sente bassa la mia voce ma i tasti si sentono mamma mia guarda come che belle macchine che stanno ah non stanno quelle che è la mia stanno proprio le altre in San Silvia quelle più moderne oddio oh coglione mi sta venendo addosso appare un coglione che mi viene addosso ah ma questa è la gara di prima ora al contrario che palle gara di merda ruma oddio ce la può fare la macchina mia se andiamo tutta spinta ce la possiamo fare però questa gara non dovrei vincere nessuna macchina perché non è richiesta la patente anche perché è un evento speciale no che palle sono troppo veloci sono troppo veloci incredibile mettiamoci da dietro come un coglione dammi la spinta ah most la corsa qua quindi freno a mano grande grande non perdere tempo non perdere tempo no no quella macchina rosa di merda che non è uguale alla mia se vedete cambia lo spoiler lo spoiler posteriore dio st'analogico mi trovo male con sti tasti gira crippio gira oh ce l'ha fatta girare minchia sono proprio veloci questi mi sa che dovevo elaborare un po' il mutuo raspirato andiamo lì addosso vai boom dai che ce l'ho fatta ce l'ho fatta dai no no non fai così vai ce l'ho fatta io quando ero piccolo su questo no ma quando ero piccolo cioè da quando ero piccolo semmai sempre su questo gioco devo agire così perché è l'unico muto per fare le curve mamma mia che dettagli ma che dallo specchietto si vedono dettagli bassissimi qua si vedono altri che cazzo però è più bella quella della mia se io mi butto così non ce la faccio calcoliamo la distanza madonna che drift madonna no noi non strisciare no tutti li stanno superando li stanno superando tutti li stanno superando tutti oddio ma vedete cioè quelli c'erano una botta di culo hanno avuto e sono arrivato quinto non posso arrivare quinto dai se fosse un altro giro che palle che culo dai stavo primo stavo secondo raga stavo secondo non posso accettare questa è follia questa è pazzia andiamo esce diciamo una terza gara terza si e poi vediamo se facciamo un po' di patenti a così si veloce non perdere tempo dai dammi questi cazzo di soldi scancia i big money mamma mia che mal di testa un mal di testa fortissimo mi assale oppure mi sa che mi devo comprare qualche altra auto no così giusto per fare ah ma c'è anche la liga gran turismo volendo però so che sono molto potenti rispetto al normale non conviene dai facciamo ah li sterrato sono pure ecco ho bisogno delle macchine da terra l'enduris manco per i manco per i come si dice manco per manco per sogno ecco che lo faccio eh legge ah coppa k vetture leggire no è troppo potente la macchina mia è troppo potente cripto non dovevo modificarla con patch car minchia qua c'è bisogno di 246 hp minimo eh coppa di russo 4 ruote non la farei mai perchè non c'è nemmeno la classe A ok coppa wagon roma short course madonna come sono veloci no qua che abbiamo motori così le all stars tanto non c'entrò niente no è facciamo no green the world mi piace proprio facciamo roma seat course anche se la devo fare per forza green world è una gara di merda è montagna così mi scazza è una l'ho sempre odiato da quando ero piccolo che la ho accelera coglione accelera accelera minchia che auto le lancia delta no minchia sono troppo forti queste mi fanno mi spaccano il culo queste auto qui si vabbè dai domani si vabbè se ne sono andate ciao a tutti oh no 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 forse ce la posso fare volendo si però cazzo le lancia delta addirittura mamma mia vai spingiamo oh che bella macchina che c'ha quello macchina arrapante ah ma questa è roma di nuovo per la terza volta però questa qua è quella il circuito più lungo infatti ora non si gira verso destra ma verso sinistra vai spingiamo la lancia delta perchè ne ha bisogno c'è il microfono che mi blocca la circolazione ok ok ora posso mi fa solletico il microfono mi fa solletico sulla mano il cavo allora il frena cazzo boom no no merda ma qua bisogna dell'elaborazione mutare perchè ho comprato la frizione non ce n'era proprio bisogno non ce n'era proprio bisogno ah no non posso raggiungere no volendo posso anche arrivare prima però deve essere molto bravo molto furbo in questo gioco non c'è bisogno di bravura qua deve essere furbo bravo essere furbo a sbattere contro gli altri così però quest'auto color merda qui quest'audico e lanciate ma dove si mette una formazione fanno fanno parte tutti dei stessi ma si spingono da soli si baggano da soli non ci posso credere che cazzo wow questa volta ce l'ho fatta vedete sto così oh un audi marron merda marron merda allora no 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 ho calcolato male la distanza per sbattergli addosso non ce l'ho fatta muoviti dai non perdere tempo ahi la mano mi sto facendo male mettiamoci in scia mamma mia questa qua l'ho fatta no no levati davanti non ti devo dar la spinta non serve a niente fai schifo lezzo puzza penzola sudicio sgocciola quella lancia delta sgocciola wow che laggato infernale non solo ho messo pausa al video ho chiuso google chrome ho chiuso utorrent no continuano a laggare perché perché questa cosa così ok ho fra 50 metri la curva ecco qua e ora ho frenato bene e ora l'ho fatta bene l'ho fatta bene però questo voglio mi spinge così se ogni tanto mi fa laggata avete visto prima che non faceva laggata invece mossi ma che cazzo c'è qua il quadro che non cusa minchia quest'auto la vedo brutta la vedo brutta per la mia macchina la vedo brutta ok giro cristo ok cioè io giro tutto l'analogico lo giro proprio in un modo incredibile però questi qua mi fanno paura questo qua col jaguaro mi fa paura però quella là con la macchina di merda però riesce no qua bisogna di fare l'elaborazione se no non riesco a fare niente ho fatto un drift ho fatto un drift un drift incredibile drift incredibile un altro drift incredibile però ora sul rettiline mi fottono guardate guardate si piazzano uno da una parte e uno dall'altra non so più da dove pararli cazzo cazzo finisci sta gara non la gara si si ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta calmo non è successo niente calmo ci ho solo vinto la gara che classe B anche se non vincerò nessuna macchina perchè questo campionata perchè questo campionato non te lo permette però la faccio una prossima puntata la faccio una prossima puntata adesso facciamo le patenti greenvald lo faccio una prossima puntata no è la patente A quella che devo fare patente A prova frenata ad alta velocità minchia questa questa è brutta questa è brutta vai 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 minchia non lo sapevo già ah questa è sempre la gara dritta che potevo frenare oh oddio mi sa che fallirò eh ma lo sento ma lo sento che fallisco vai lascia frena coglione frena cristo basta 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 non è successo niente non è successo niente non è successo niente non è successo niente continuiamo è partito senza il mio consente vediamo com'è la macchina da gioco si ok sta che già da 800 devo cominciare a frenare così lascia l'acceleratore comincio a frenare ho sbagliato devo frenare un po' più duro mo fallisco vuoi dire fallisco? fallito fallito come cazzo si fa? come cazzo si fa? come cazzo si fa fallire così? aspetta siamo ancora alla prima patente A immaginate dopo come cazzo si fa? oddio no no non metto a ridere è impossibile no devo frenare non l'ho dimenticato frena coglione frena 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 e ho fallito infatti ho fallito per il tempo così no che palle che palle questa è la quarta volta però ho fatto un record eh eh questo è da meritare è meritevole il fatto che ho fatto un record il fatto che ho fatto un record è meritevole eh muoviamoci qui muoviamoci lì frena cribbio fa mi deve fare esasperare questo gioco mi fa le laggate così giusto perché mancavano le laggate così no chi sei che sta laggata qui oddio come sta laggando no scusate ma incredibile frena dai eh sì ho fatto medaglia argento infatti è argento medaglia argento solo argento sì eh la 2 facciamo le che ah questo è difficile questo è difficile questo è difficile però non è chi ti avvisa prima vedi che stai partendo no la partenza è lanciata così vim 500 metri 600 metri 700 metri 800 metri ah devo frenare è vero cazzo cazzo perché perché non mi rendo conto perché allora ho laggato infernale però gli alberi in 2d cioè guardate che stile gli alberi in 2d mamma mia il paesaggio epico perché mi fate laggate non me l'ha mai fatta lo sapete pure cioè voi che vedete lo sapete non mi ha mai fatta ah per questa laggata ho fallito vaffanculo mi sono offeso cioè ma perché mi sta facendo queste laggate così cioè voi avete visto le vecchie puntate non faceva così incribbio vedete la macchina io sto mirando la macchina le luci di dietro posteriore dell'auto che si muovono che si muovono e respirano che cazzo invece di stare fermo il modello 3d ah qua devo frenare 20 21 si si ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta grande minchia questi sono proprio difficili questi esami questi esami sono difficili onda integra type her dai veloce ah questa è la stessa gara di prima che potevo prendere loro se mi sarei accorto che era una partenza lanciata però questa volta di meno ok 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 però queste piste non le posso giocare nelle gare normali queste piste non le posso giocare non lo so perché uh un bug enorme sto vedendo lì 19 730 oddio che è laggata perchè sta laggando così qualcuno mi sta chiamando su skype sicuramente andiamo a controllare allora ragazzi ho controllato ho chiuso anche skype adesso ma guarda che è laggata guarda come è lagga a 4 fps va aspettiamo un po' che slaghi così fermo fermo ok oddio perchè mi fa sta laggata no non ci posso creare io esco e salvo raga esco salvo e poi se qualcuno registro dopo perchè non posso vivere con questa laggata beh ragazzi ah ancora non lagga più vabbè ragazzi ricordate di mettere mi piace iscrivervi al canale e ciao a tutti ragazzi ciao 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 ciao